Ciao. Bentornato al programma tv di oggi con notizie come. Contrariamente a ciò che viene postato sui social, il conduttore Paolo Bonolis sta soffrendo per la fine del matrimonio con Sonia Bruganelli. La notizia della fine del matrimonio tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli ha lasciato senza parole tutto il pubblico che li segue e li apprezza da anni. Genitori premurosi e professionisti impeccabili, sia Bonolis e sia la Bruganelli, sono sempre stati considerati come la coppia d'oro della televisione italiana. L'intervista esclusiva a Vanity Fair a inizio mese, tuttavia ha rivelato delle profonde difficoltà che hanno finito per compromettere tutta la loro relazione. Tanto da aver deciso di separarsi. Quel che è emerso in questi giorni è la sofferenza emotiva che ha colpito Paolo Bonolis per questa situazione. La fine del matrimonio tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis. Dalla video intervista rilasciata in esclusiva per Vanity Fair. Riguardo la fine del matrimonio tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis. A risultare più fermo, distaccato e imperturbabile era sembrato il conduttore. Una pura sensazione. Ben presto smentita dal giornalista Alberto Dandolo del settimanale Oggi. Proprio in relazione alla discussione riguardo le sorti della relazione con la produttrice televisiva. Dandolo ha dichiarato. Chi lo conosce bene lo sa che ha lottato fino all'ultimo per salvare il matrimonio e che la scelta di concluderlo sia partita da lui. Le indiscrezioni su Paolo Bonolis. Il settimanale Oggi ha dedicato un articolo alla rottura della relazione tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. Lasciando parlare uno dei suoi giornalisti, Alberto Dandolo. Secondo quanto scritto nel pezzo, sembra che Bonolis stia soffrendo molto per la fine del matrimonio. A chi aveva iniziato a mettere in mezzo voci relative ad una nuova frequentazione per il noto conduttore di avanti un altro, è lo stesso Dandolo ad esporsi in maniera netta e senza problemi. A noi risulta che il nostro conduttore abbia il cuore assolutamente libero e che nutra ancora un profondo sentimento per Sonia. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire. Mettete mi piace e commentate. In particolare cliccate iscriviti al canale. Per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video. Grazie per aver guardato il video. Grazie per aver guardato il video.